Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi un video un po' particolare perché sapete che sul canale comunque si variano i generi e variano anche i contenuti del video. Ci tenevo a fare un video dove per l'appunto volevo dare una mano ai giocatori che magari come me hanno scoperto recentemente la campagna freelance di Hitman 3, World of Assassination, e far cominciare diciamo col piede giusto la campagna di qualsiasi giocatore. Io ho praticamente finito, fallito in realtà, una campagna e quindi sto ricominciando da capo e proprio ricominciando da capo ho la possibilità di poter aiutare i nuovi giocatori. Come faccio ad aiutare i nuovi giocatori? Ovviamente permettendogli di ottenere gratuitamente la loro prima arma silenziata, ovvero la pistola silenziata. Perché avere un'arma silenziata all'interno delle campagne rende il tutto molto più semplice, sia come eliminazione e sia anche come velocità di esecuzione qualora non si abbia la possibilità di poter gestire in maniera alternativa magari l'incarico preso in questione. Detto ciò, che cosa si fa quindi per avere quest'arma iniziale silenziata che aiuta il giocatore in questione? Innanzitutto bisogna cercare tra le campagne una che possieda la missione, o per meglio dire il luogo, dell'isola di Sgail Atlantico Settentrionale, che in questo caso è la seconda che vedete lì praticamente su schermo. Accettiamo questa campagna e andiamo subito in questa regione. Questa regione ci consente di ottenere la nostra prima arma silenziata. Quindi selezioniamo l'incarico. Non è importante svolgere tutti gli obiettivi o comunque cercare di fare qualcosa in particolare. Ecco, io qua in realtà potrei prendere l'eliminazione con pistola silenziata epica, perché in realtà la pistola silenziata epica ce l'ho. Quindi questi sarebbero punti facili per me. Quindi la facciamo, anche se io vi farò vedere comunque come ottenere la pistola silenziata rara in questo caso, perché è una pistola rara. E possiamo andare verso la nostra missione. La cosa da fare è andare a prendere la pala, che vi mostrerò per l'appunto dove si trova, e poi scavare in un punto specifico della mappa, perché a quanto pare la pistola è per l'appunto seppellita sottoterra. Quindi trovare la zona dove poter scavare permetterà al giocatore di ottenere successivamente la sua prima arma silenziata. E' un vantaggio avere le armi silenziate, perché ci consentono di eliminare facilmente i nostri obiettivi, e quindi giocare molto più facilmente all'interno della partita. Allora, il nostro bersaglio si trova lì. Ok, noi siamo spawnati... Io praticamente spawno sempre in questa zona. Non so effettivamente voi dove spawnerete, o dove sarà la possibilità di farvi spawnare, ma qualora doveste spuntare da qui, la cosa che bisogna fare subito è scendere, andare da questo lato, scendere, e arrampicarsi su questa grondaia. Scendiamo in basso fino in fondo. Qui ci nascondiamo nell'erba, perché qui ci sono due guardie, quindi facciamo attenzione appunto a non farci beccare, perché potrebbe essere appunto un problema. Potrei anche tranquillamente ammazzarli, perché io possiedo comunque già una pistola silenziata, ma vi faccio vedere appunto come giocherebbe un novizio. A questo punto si sale, si sale ancora, e si percorre tutta questa parte laterale fino all'apertura qui. Una volta arrivati qui saliamo, e disattiviamo questo generatore in modo tale da creare la distrazione. Infiliamoci dentro la scatola, e aspettiamo che ovviamente la guardia, in questo caso il tecnico, vada a risistemare appunto l'impianto elettrico, quindi le luci. Una volta che si gira, noi lo possiamo prendere alle spalle. Lo stordiamo senza ucciderlo, perché non ci serve. E lo nascondiamo in questa cassa, per evitare che possa essere visto. Ci travestiamo, e abbiamo libero accesso a questa zona, tranne per alcuni nemici che giustamente potrebbero riconoscerci. A questo punto passiamo dietro l'elicottero, passiamo dietro le guardie, passiamo dietro tutti, e dobbiamo raggiungere questa zona. Corriamo lungo il bordo del cornicione, fino a raggiungere la finestra. Attraversiamo la finestra, e qui, con nonchalance, possiamo passare tranquillamente dall'altro lato, e raccogliamo il piede di porco che si trova dall'altro lato della stanza. Una volta preso il piede di porco, giriamo nuovamente la stanza, e eliminiamo questi soggetti. Quindi, attiviamo la radio, ci nascondiamo qui nell'angolo, per evitare di essere scoperti durante l'investigazione. E appena il nostro, come dire, il nostro amichetto, viene per spegnere la radio, Ok, lo stordiamo. Qua facciamo attenzione, perché potrebbe succedere che l'altra guardia, in questo caso, potrebbe vedere il corpo. Se non lo vede, abbiamo tutto più facile, perché possiamo andare praticamente alle sue spalle, facendo finta di niente, con nonchalance. Boom! E stordire anche lei. A questo punto, prendiamo il corpo della prima testimone, e lo occultiamo qui dentro. Una volta fatto questo, sbarazziamoci dalla telecamera, perché potrebbe darci fastidio. Ok. E a questo punto, quest'altro NPC, possiamo decidere se gettarlo dalla finestra, per essere più veloci, e quindi eliminarlo, pagando 50 dollari, perché l'eliminazione di persone innocenti, costa 50 dollari, oppure occultarlo qui dentro, perché, appunto, possiamo farlo, e risparmiare anche quei 50 dollari, che potrebbero effettivamente farci comodo. A questo punto, forziamo la porta col piede di porco, facendo attenzione, di non avere nessuna guardia, praticamente, a spiarci. e qui facciamo attenzione, perché abbiamo un soldato, che avrà modo di poterci identificare, che è quello col pallino in alto nella testa, e gli altri che invece possono, in teoria, non identificarci, e quindi avere la situazione tranquilla. Quindi aspettiamo che, faccia il giro. Ok. A questo punto, noi possiamo andare da questo lato. Anche se le telecamere ci riprendono, qui non è un problema, perché non siamo ricercati, non succede nulla. E saliamo al piano di sopra. Salendo al piano di sopra, finalmente siamo giunti nella zona, dove appunto avremo la possibilità, di prendere la pala. Qui fate attenzione all'altro soldato, che potrebbe identificarvi. Ok. A questo punto passate dall'altro lato. E qui possiamo passare e prendere la nostra pala. Eccola qui. Che nella mappa si trova esattamente qua. Dove c'è la vecchia quercia. Quindi potete già capire effettivamente dove andare. Una volta presa la pala, possiamo tranquillamente rifare tutta la strada indietro, perché il nostro obiettivo è raggiungere la zona. Attenzione che qui c'è qualcuno che mi sta guardando. Anche qui, ma noi possiamo ritornare praticamente indietro. Facciamo sempre attenzione alle guardie che possono identificarci. Ok. Qui potremmo anche ottenere il costume di quella guardia che vedete lì, che è praticamente un lascia passare per tutta la mappa di gioco, ma non rischiamo, perché non c'è motivo di rischiare, però se volete rischiare, prendere quel travestimento vi assicura praticamente il passepartout per girare liberamente in quasi tutta la mappa del gioco. Cioè in tutta la mappa del livello, più che altro. A questo punto ripassate da dove siamo venuti. Non c'è problema perché le telecamere non ci stanno ricercando né niente. E qui siamo in una zona tranquilla, quindi ritorniamo indietro, apriamo la porta e come potete vedere da qui non c'è nessuno che praticamente ci riconosce. Quindi attraversiamo tutta la zona dell'elicottero di prima, attraversiamo anche il cancello che però dovete fare attenzione non potrete riaprire al contrario, quindi potete passare solo una volta da questo cancello, ma a me va bene così. e una volta arrivati qui siamo praticamente tranquilli perché nessuno potrebbe ormai riconoscerci. Attraversiamo tutta la zona e andiamo sotto entrando praticamente da questo lato. Nessuno ovviamente ci darà fastidio, quindi siamo tranquilli. Entriamo nella porta qui a destra, altra porta a destra, e lanciamo giù la pala. Scendiamo. Raccogliamo la pala di nuovamente. Qui l'intrusione non è un problema perché tanto non c'è nessuno che ci che ci vedrà, a parte probabilmente questa donna che noi anche se dovesse vederci noi stendiamo subito easy e la buttiamo giù. Questo è il punto esatto dove dobbiamo scavare. Qui. Praticamente sotto le catacombe. Quindi abbiamo fatto tutta la strada da qui dalla vecchia quercia fino praticamente qui alle catacombe. Arriviamo qui e dove dice scava si scava più semplicemente. Una volta scavato ecco qua raccogli H9S mimetica. La pala la possiamo buttare perché non possiamo portarla con noi e abbiamo la nostra arma silenziata che ci consentirà di eliminare facilmente i nostri obiettivi. quindi lei ora come ora è un testimone dovrei effettivamente forse eliminarla perché vabbè qui non ci scende nessuno per cui non è un problema possiamo evitare anche di eliminarla per evitare soldi. Noi dobbiamo eliminare praticamente un membro delle pulizie a quanto pare forse della cucina perché mi sa che da quel lato c'è la cucina quindi in realtà mi è andata anche abbastanza bene. Non è troppo difficile infiltrarsi nella cucina soprattutto con questo travestimento. Qualora vi interessasse qui c'è anche un altro travestimento che vi permette di diventare appunto un cameriere che forse è anche la cosa più ideale per me al momento perché lì mi sa che ci possa andare da cameriere ma vedrò però quello che mi interessava farvi vedere era appunto come ottenere la vostra prima pistola silenziata. Molto molto facile da ottenere e questa vi consentirà di intraprendere la vostra carriera da assassini in modo molto più veloce e molto più smart spero che il video possa esservi stato utile e noi speriamo di beccarci con un prossimo appuntamento bai bai per la vostra